Noi come Comune di Pavia abbiamo aderito ai progetti di servizio civile nazionale di Anci perché diciamo che siamo stati molto soddisfatti dell'esperienza che abbiamo avuto con gli obiettori di coscienza quindi stiamo cercando di potenziare questa possibilità che si dà ai ragazzi, che si dà anche alle amministrazioni e si dà la possibilità a tutti di crescere insieme a una cosa nuova che va sperimentata, è un percorso da fare insieme. Grazie